Buongiorno e benvenuti in questo webinar di presentazione di un processo commerciale B2B che funziona dove vi metterò a disposizione la mia ormai quasi ventennale esperienza nell'efficientamento dei processi commerciali che ha portato in moltissime PMI, in qualunque direi settore e dimensione, risultati ben oltre le aspettative. Allora, oggi qual è il principale obiettivo di ogni impresa? Vendere di più ma soprattutto io aggiungo vendere meglio e questo oggi per farlo non è più sufficiente avere un buon prodotto o una buona soluzione, bisogna fare qualcosina di più. Investiamo oggi in un mercato sempre più competitivo, un sacco di soldi in campagne online, in materiale di marketing, investimenti in fiere con l'obiettivo di portare naturalmente potenziali nuovi clienti a conoscenza della nostra azienda ma ricordiamoci che tutti questi sforzi sono vanificati se il processo commerciale è inefficiente. Allora, cosa facciamo tipicamente per aumentare le vendite? Qual è il metodo più comune nelle imprese per aumentare le vendite? Beh, se questo è, chiamiamolo il nostro funnel di vendita, vedete che ha la forma di un imbuto, quindi quando leggete funnel di vendita è appunto questa forma dove partendo dal mondo dei potenziali clienti riusciamo a portarli verso l'ordine, allora la cosa che si fa tipicamente è aumento il budget del marketing, tutto aumenta proporzionalmente, ovviamente porto a casa più vendite. Questo tipo di approccio è ovviamente utile e da fare ma dopo aver sistemato il processo commerciale. Prima bisogna portare il processo commerciale all'efficienza, poi si può applicare quel tipo di ragionamento che abbiamo visto poco fa. Se invece da subito, ancora prima di investire più budget, lavoriamo sul processo commerciale, otterremo un effetto fantastico, cioè venderemo di più spendendo meno, che è credo il sogno di qualunque imprenditore, ma soprattutto miglioriamo la qualità dell'evento. Vedrete più tardi anche cosa significa migliorare la qualità dell'evento. otteniamo degli effetti che non riusciamo neanche potenzialmente adesso ad immaginarci, fin tanto che non lavoriamo appunto su questo tipo di processo. Allora, per farlo io devo portare alla vostra attenzione un esempio di vendita B2B, comprensibile da tutti, che è naturalmente poi declinabile su altre tipologie di processi, e pensiamo alla vendita di pareti attrezzate. Quindi ponetevi un attimo dal lato del cliente, se avete avuto in questi anni necessità di riorganizzare il layout dei vostri uffici o quant'altro, avete probabilmente fatto una ricerca in internet, questo è quello che è capitato ad esempio a me, ma credo anche a molti di voi, di pareti attrezzate. Pareti attrezzate che per definizione sono su misura, quindi che caratteristiche hanno? Non esiste un listino prezzi da voi consultabile e dal quale potete già definire quanto sarà il budget necessario, necessitate di una consulenza di rilievo piuttosto che di un tecnico che vi consigli quali tra le diverse soluzioni che oggi il mercato offre anche dallo stesso fornitore, qual è la più adatta, in vetro, non in vetro, in pareti movibili, insomma ci sono tantissime soluzioni e soprattutto chiedete tre preventivi e otterrete prezzi tra loro molto diversi, magari su una soluzione che ritenete quasi simile. Allora, lo stesso tipo di ragionamento è per questo che ho preso questo tipo di esempio, perché sarà per noi facilmente comprensibile durante la spiegazione del processo, però è declinabile lo stesso d'antico modo per chi vende macchinari, chi vende macchinari non ha un listino tipicamente, sviluppa una soluzione sulla base di un'esigenza, poi ci sarà magari più effort di tipo tecnico, però il principio è analogo, non c'è un prezzo di listino su cui basarsi, in più chiedo più preventivi, mi trovo prezzi tra loro molto diversi e devo capire, fare una scelta, e non è tipicamente la scelta unicamente fatta dal budget, quale di queste scegliere. Quindi ho preso questo esempio, mi sono ritrovato con lo stesso tipologia di caso per chi vende servizi, servizi simili tra di loro, servizi a valore, che hanno necessità di essere compresi da parte nostra come clienti, ma spiegati appunto come fornitori. Quindi questo esempio è declinabile su tante altre tipologie di processi. Allora, per poter andare assieme a comprendere appunto il contenuto di questo webinar, dobbiamo prima, nell'esempio che ho appena fatto, andare a identificare le fasi del processo, andare a definire quali sono i parametri, le ipotesi di conversione, nel vostro caso dovete andare invece a misurare le vostre conversioni per poter declinare il vostro caso aziendale su quello che vi sto dicendo, e la stessa cosa sull'impatto di ogni fase. Allora, partiamo dalle fasi del processo. Allora, ho preso tre attori, per semplicità, cliente, client care, client care diciamo in rappresentanza della figura del reparto commerciale, tecnico è la rappresentanza appunto del reparto che si occupa di sviluppare la parte tecnica della soluzione e appunto nel momento in cui si fa o si riceve, dipende da che parte ci mettiamo, una richiesta d'offerta, tipicamente il client care o il reparto commerciale la analizza, fa tipicamente una prima chiamata di analisi, quindi su questo tipo di processo non intervengo, se così non è, va capito come mai non è così, perché questo tipo di processo per come si presenta è corretto, il tecnico effettua nel caso delle pareti movili un sopralluogo, sviluppa l'offerta sulla base degli elementi raccolti, che vi viene inviata poi dal reparto commerciale, il quale si occupa di fare un follow up e raggiunge poi l'ordine da parte del cliente. Bene, questo tipo di processo non, ripeto, non si discosta molto da altre aziende che vendono soluzioni a valore, se ci sono delle differenze possiamo comunque discuterle in separata sede per capire se e come mai ci sono differenze rispetto a quanto stiamo vedendo, che comunque non è il focus di quello che andremo a vedere dopo. Allora, andiamo a stabilire le parametri di conversione. Presa una base di 100 richieste d'offerta, naturalmente nel corso di queste azioni di processo ci sarà una perdita di interesse, appunto, proprio perché stiamo parlando di un funnel, quindi fino a un certo momento in cui ci accorgeremo che fatte 100 richieste d'offerta siamo arrivati a 20 ordini, tanti o pochi. Vi dico che sulla base delle esperienze mie nelle aziende che offrono soluzioni a valore, 20 ordini fatte 100 richieste d'offerta, quindi non fatte 100 offerte, fatte 100 richieste d'offerta è già un buon punto di partenza. Spesso trovo parametri di conversione molto più scarsi, quindi l'8, il 7%, dipende appunto dal valore della soluzione, della complessità. Se trovassi l'80%, altresì c'è un problema, c'è un problema derivante dal fatto che probabilmente siamo sotto prezzo, stiamo vendendo fuori mercato, a ribasso, cioè le conversioni si devono attestare tra il 10 e il 30%, allora abbiamo sostanzialmente dei risultati che sono in linea con il mercato, ma il perché è anche facilmente comprensibile, è standard e tipico che quando uno ha bisogno di una soluzione come questa chieda tre preventivi. Se siamo in concorrenza con tre competitor o quattro competitor che se la giocano con noi sul mercato, una volta vinco io, una volta vince il competitor, perché se vince sempre il competitor io chiudo, se vince sempre io chiudo il competitor, se prendiamo 100 appunto le richieste o meglio ancora le 75 le offerte che qui stiamo emettendo, se dividete per tre la fetta o dividete per quattro la fetta, vedete che siete nell'ordine di indigna che vi sto dicendo in termini percentuali. Però nella logica di oggi dobbiamo andare a capire anche altri parametri. Allora, andiamo innanzitutto a capire quant'è l'effort che va messo su questo processo, quanti sono gli sforzi che dobbiamo metterci. Allora, richiesta d'offerta fatte 100, insomma un minimo di gestione dell'anagrafica, un quarto d'ora, quindi 0,25 di un'ora, che un quarto d'ora appunto va messo in preventivo. Si fa una chiamata d'analisi, un altro quarto d'ora, chiama, non risponde, fai, sopra luogo ho considerato un paio d'ore, mi sembra proprio il minimo, tra trasferta, fermati dal cliente, fai qualcosa, sviluppare l'offerta in pagina, la fai, quattro conti, un'oretta, ci sta, non ho assolutamente abbondato, invio l'offerta, fai la mail, insomma un quarto d'ora, fallow up un pochino di più, mezz'ora, perché insomma il cliente, vedo le aziende, sono abituato a chiamarle tre, quattro, cinque volte a rincorrerlo. Tra il resto, questo non l'ho declinato su tutte 100, ma avendo stabilito un fan, il fallow up lo faccio solo sulle 50 aziende che sono riuscito a contattarmi, sono quelli che poi non rispondono manco al telefono. Se noi andiamo a moltiplicare valore per quantità e lo andiamo a dividere per i 20 ordini che abbiamo ottenuto, l'effort di processo richiede 16,3 ore per ogni ordine, cioè per quei 20 ordini noi dobbiamo utilizzare 16,3 ore da moltiplicare per 20 ordini. E come sono distribuite queste 16 ore e 3? Beh, queste 16 ore e 3 saturano per meno di 5 ore il back office e per più di 11 ore, quasi 12 ore il tecnico, che sono cifre comunque importanti, perché poi sono dei costi che noi dobbiamo andare a sostenere come imprenditori, quindi sono costi importanti. Allora, come possiamo migliorare il processo commerciale, che è appunto l'obiettivo di questo webinar? Dobbiamo partire dal fatto che per massimizzare gli ordini è fondamentale lavorare sui dettagli di ogni fase del processo. Vi ricordo che non ho parlato di dare più budget per ottenere più ordini, dobbiamo lavorare sui dettagli di ogni fase in maniera estremamente meticolosa. Partiamo! Allora, prima di tutto dobbiamo essere tutti consapevoli, perché se ci mettiamo nei panni del cliente, quando andiamo a contattare un fornitore che non conosciamo, a cui stiamo facendo una richiesta, il nostro primo obiettivo è di raccogliere elementi per capire chi è questo fornitore, quale sarà la sua affidabilità, il suo posizionamento di prezzo. Vogliamo capirne di più e per capirlo, al netto della social reputation, che è sempre più un tema importante, siamo alla ricerca più o meno inconscia di elementi per capire chi è questo fornitore. Allora, la prima azione di post richiesta, quindi nel momento in cui io ricevo una richiesta d'offerta e vendo pareti attrezzate o pareti su misura, dobbiamo essere consapevoli che la prima azione che facciamo condiziona l'intero processo commerciale. Non chiamate a freddo. Quando ricevete una richiesta d'offerta dove vi ha detto sono interessato ad una parete attrezzata a questo servizio, vi lascia il nome e il numero, non chiamatelo direttamente. Si chiamano chiamate a freddo appunto, perché in quel momento il potenziale cliente, ancora un potenziale cliente, potrebbe essere disturbato, potrebbe non conoscere il numero, potrebbero succedere mille cose, per cui la chiamata a freddo è da bandire. Va invece pensato di fissare un appuntamento, un piccolo appuntamento, un breve appuntamento che va necessariamente programmato, quindi quando riceviamo una richiesta d'offerta va inviata una mail personalizzata. Quindi non confondiamo una mail personalizzata con la mail automatica che è in grado di mandare un form grazie cliente a gentile richiesta. Questo è comprensibile che sia una mail automatica, il valore è nullo se non far capire al cliente che è arrivata la sua benedità richiesta. Però non è questo il significato, la mail personalizzata che va mandata subito, massimo entro un'ora, che deve mettere in evidenza gli step commerciali, quindi ricordiamoci, lui mi ha fatto una richiesta perché vuole un prezzo, se iniziamo a non dargli chiarezza in quali saranno i prossimi step, anche questo può essere un problema, quindi gli evidenziamo quali saranno gli step commerciali e soprattutto già che gli mandiamo una mail personalizzata, ricordo per fissare questa breve chiamata, mettiamoli in evidenza dei contenuti che potremmo avere sul sito, che possono essere delle referenze, dei prodotti, dei video, non è assolutamente scontato che lui abbia visto tutto il materiale che avete messo sul video, al netto che abbiate del buon materiale sul sito. Se non avete del buon materiale sul sito, è occasione per pensare appunto di sistemare il sito internet perché tramite questa mail potremmo andare a sensibilizzare il cliente. Ricordiamoci che il cliente vuole comprare valore, non in efficienza, questo è un aspetto estremamente importante, per questo, 1. Attenzione alla qualità delle mail, 2. Inutile continuare a tentare di chiamarlo disturbandolo, partiamo da una mail personalizzata ma al tempo stesso magari preconfigurata, se avete, io consiglio di avere il giusto strumento per gestire questi processi, il giusto strumento è appunto 2appi, però, ripeto, esula un attimo del contenuto del webinar, mandare una mail personalizzata significa poter dimostrare degli elementi molto importanti. Allora, in questo caso, ad esempio, una mail come questa che è sicuramente appagante a livello grafico, contiene degli aspetti molto importanti. Do l'obiettivo, come vedete, della chiamata, raccogliere alcune informazioni, do l'entità del tempo che andrò ad utilizzare durante questa chiamata, massimo 5 minuti, evidenzierò, sto chiedendo se va bene questo breve appuntamento per domani ad una certa ora e soprattutto, non datelo per scontato, il numero dal quale chiamerò. Perché questo? Perché il cliente ci è capitato in tante situazioni, c'era un numero che considerava un call center, piuttosto che... Quindi, se mettete in evidenza queste informazioni, sicuramente iniziate a dare un posizionamento di un'azienda attenta ai dettagli e se avete il giusto strumento come tu, il vostro potenziale cliente è anche in grado di confermarvi la disponibilità, quindi si sta impegnando nei vostri confronti nel accettare questa chiamata che farete appunto domani alle ore 16. Inoltre, fatevi riconoscere. Se siete un back office o se siete una figura commerciale che sta mandando questa mail personalizzata, fatevi conoscere mettendo all'interno della firma la vostra foto. Aiuta a costruire un marketing relazionale. Fatta questa, sostanzialmente, questa email, arriverà, giungerà il momento della chiamata di analisi. Allora, l'obiettivo della chiamata di analisi è strategico. deve raccogliere il vero livello di interesse. Deve raccogliere informazioni di quando è previsto l'investimento. Non vuol dire che andiamo a prendiamo a sberle chi non vuole fare investimenti immediatamente, ma lo andremo a gestire in maniera differente, piuttosto che dobbiamo andare a capire qual è il budget che si è prefissato colui che ha fatto la richiesta. Non è assolutamente scontato che abbia preso in considerazione quanto può essere necessario per questo tipo di investimento. È importante ricordarsi che questa chiamata che si andrà a fare non è un interrogatorio, ma al tempo stesso è il primo contatto verbale che avrete con il cliente. Quindi, puntualità e soprattutto mettete in condizione colui all'interno della vostra azienda che andrà a fare questa chiamata di essere guidato nelle appunto informazioni che deve raccogliere. Quindi, non è un questionario, non è un interrogatorio, ma deve avere sotto controllo durante la chiamata quali sono gli elementi importanti. Ad esempio, elementi sensibili per il cliente. Il cliente evidenzia il fatto che ha necessità di pareti per ridurre al massimo il rumore, che ha previsto di fare questo tipo di intervento durante le vacanze. Cioè, ci sono degli elementi che sono sensibili per il cliente che dobbiamo raccogliere che ci serviranno naturalmente lungo tutto il processo per mettere in evidenza il cliente che siamo attenti alle sue esigenze. Dobbiamo avere ordine e metodo nel raccogliere le informazioni e le informazioni vanno tracciate. Stiamo sostanzialmente raccogliendo una serie di informazioni, ricordiamoci che l'effort visto su un processo commerciale che porta all'ordine sono più di 16 ore trasformate in denaro aziendale. Sono un sacco di soldi che mettiamo a disposizione per un processo aziendale. Io nella mia attività di consulenza dico sempre quando si offre una cena a qualcuno lo scontrino si porta sempre di ritorno. 16 ore sono un'ottima cena offerta se la trasformate in soldi aziendali pertanto tracciare le informazioni di un processo commerciale lo vedo quantomeno necessario. La chiamata di analisi è una chiamata durante la quale abbiamo evidenziato è molto importante la puntualità se ho detto alle 16 le 16 siano ma se il cliente non si fa trovare dobbiamo essere pronti con un mail interattivo dove evidenziamo il cliente di averlo cercato quindi in questo caso li evidenziamo che l'abbiamo cercato su un appuntamento telefonico che lui ha confermato se vi ricordate tramite quel pulsante interattivo e sostanzialmente un aspetto molto importante è far capire che ora tocca a lui tocca a lui nel senso che non lo vogliamo pressare quindi avrà la possibilità di premere un pulsante dove richiede di essere contattato se avete un software come Tueppy vi metterà in condizioni di capire che lui ora è disponibile alla chiamata naturalmente il cliente non serve a Tueppy quindi qualunque sia lo strumento con cui leggerà la posta premerà contattatemi ora così facendo date il senso di ordine date il senso di puntualità il cliente può iniziare a interagire con voi dimostrate efficienza e soprattutto iniziate a scremare un pochino l'atteggiamento del cliente volto a prendersi degli impegni e non mantenerli questo tipo di atteggiamento vi sarà molto utile quando andrete a fare le azioni di follow up scoprirete che quelli che non riuscite a trovare sono quelli che nelle fasi anche di chiamata di prima chiamata commerciale vi avevano confermato l'appuntamento poi non erano presenti insomma i casinisti si smascherano subito allora se naturalmente non si fa sentire entro 24 ore siccome una richiesta d'offerta ha avuto comunque un costo di marketing un ultimo tentativo un recall lo si può fare quando la chiamata di analisi è andata a buon fine ci sono i presupposti lui è intenzionato ad investire quindi non sta facendo una banale richiesta di fattibilità per capire quanto costa ma tutto rientra appunto nelle logiche di budget prefissate possiamo fissare il sopralluogo ricordiamoci che nel sopralluogo noi stiamo facendo gratuitamente una consulenza gli stiamo insegnando in questo caso parliamo delle pareti gli stiamo insegnando quali sono i materiali da utilizzare qual è la miglior soluzione consulenza che poi lui probabilmente utilizzerà anche quando farà una richiesta ai vostri competitor quindi è un costo importante dobbiamo valorizzarlo e soprattutto il sopralluogo è un momento di posizionamento quindi dobbiamo essere consapevoli che chi si presenterà durante il sopralluogo posizionerà in quel momento l'azienda e quindi dovrà continuare nell'ottimo lavoro che abbiamo fatto finora il cliente lo deve percepire come un impegno è una consulenza che gli stiamo offrendo gratuitamente la facciamo a ragion veduta di un interesse concreto all'acquisto quindi non c'è sostanzialmente da temere il fatto di chiedere qualche informazione in più al cliente anche potenzialmente scomoda riguardante quando comprerà i budget a disposizione eccetera è un impegno anche per il cliente per questo motivo anche qui puntualità dobbiamo dimostrare efficienza puntualità ed ordine lungo tutto il processo aziendale proprio per questo motivo una email di conferma dopo aver fissato l'appuntamento magari durante la prima chiamata di prenalisi dove confermiamo il fatto che l'appuntamento è domani a una determinata ora gli mettiamo ancora una volta a disposizione il pulsante per contattarci qualora avesse il cliente bisogno di chiarimenti piuttosto che nel momento in cui dovesse annullare il sopralluogo si deve essere in condizione di capire che siamo un'organizzazione efficiente che opera senza sprechi per questo iniziamo già a introdurre il concetto che il prezzo e le soluzioni sarà competitivo bene una bella email di conferma appuntamento e un altro ancora step di posizionamento aziendale nella giusta direzione abbiamo raccolto ora le informazioni arriviamo allo sviluppo dell'offerta lo sviluppo dell'offerta è molto importante che l'offerta sia leggibile nei contenuti con magari richiami a contenuti che ci sono sul sito quindi magari un pochino più sintetica rispetto a un'offerta di 50 pagine per una soluzione a 3.000 euro che stiamo offrendo quindi tipicamente il volume dell'offerta questo è un tema che potrebbe richiedere un webinar dedicato deve essere coerente con il valore appunto del bene che stiamo proponendo bene l'offerta deve essere leggibile con dei richiami di contenuti al sito deve contenere i prezzi di controllo che cosa sono i prezzi di controllo allora questo è un piccolo escursus che vi faccio nel momento in cui io mi trovo di fronte a due soluzioni delle quali non riesco a comparare la qualità dei componenti che ci sono all'interno ma hanno una differenza di prezzo il nostro cervello va a cercare i cosiddetti prezzi di controllo traduco se la stessa soluzione poi mi viene detto che il tecnico che farà l'installazione lavora a 60 euro l'ora l'altra soluzione il tecnico che viene a fare l'installazione lavora a 45 euro l'ora il tecnico a 60 euro l'ora chiede 40 centesimi a chilometro quello appunto da 45 me ne chiede 25 centesimi a chilometro questi prezzi di controllo a prescindere dei prezzi della soluzione che abbiamo sopra mi fanno pensare che la soluzione da 45 euro l'ora possa essere più diciamo economica della versione 60 se anche il prezzo della soluzione dove erano indicati i prezzi di controllo più bassi è un pochino più alta la vado ad attribuire a maggiore qualità del prodotto se invece noi andiamo a dire che i prezzi sono inclusi di installazione trasferta eccetera rischiamo di lasciare libera l'interpretazione del cliente quindi il consiglio che io do è esporre i prezzi di controllo andando piuttosto a promozionalmente piuttosto che a livello di negoziazione a includerli nel valore della promozione ma il prezzo di controllo ci permetterà di fare dei paragoni con altri tipi di soluzioni che ci vengono in quel momento offerte dai competitor l'offerta va distinta da una proposta budgettaria non possiamo dedicare lo stesso tempo per una proposta economica ben strutturata per un cliente che manifesta un acquisto a breve termine rispetto al cliente che sta chiedendo esclusivamente una proposta budgettaria perché acquisterà fra 8 mesi e deve avere un ordine di grandezza se non chiediamo questo nella fase di chiamata di preanalisi difficilmente sapremo orientare l'effort alle giuste opportunità la qualità del documento predispone il cliente alla citazione del contenuto un documento ben presentato chiaro mette in condizione il cliente di essere molto più predisposto alla citazione del suo contenuto la qualità del documento è fondamentale ecco che nel momento in cui il contenuto è pronto invia l'offerta l'offerta deve essere puntuale rispetto ai tempi promessi ti invia l'offerta entro due giorni deve essere entro due giorni non può essere entro cinque giorni piuttosto se ci sono delle problematiche vai evidenziato al cliente guarda siamo veramente saturi a livello commerciale hai esigenza di riceverla a breve sì va bene te la mando domani hai tempo 4-5 5 giorni per ricevere l'offerta è un problema se il cliente dice no allora posso creare una pianificazione nello sviluppo dell'offerta tuttavia i tempi che prometto vanno mantenuti questo tipo di richieste questo tipo di domanda ci aiuta nell'andare anche a capire con il cliente il cliente la percepisce quando andrà a fare l'acquisto il cliente la percepisce come organizzazione la percepisce come puntualità la percepisce come un modo di operare organizzato al quale lui stesso vuole ispirarsi meglio se quando siete pronti a inviare l'offerta anticipate una chiamata dove andate ad anticipare dei suoi contenuti e magari lo stesso back office lo stesso client care lo stesso la figura commerciale che si era occupato aveva iniziato a instaurare un po' di rapporto durante la chiamata di analisi dice bene ti sto mandando un'offerta sei ancora intenzionato in una decisione a breve perché avrei magari questa promozione da poterti dedicare ne ho poche te la dedico se e quindi ci sono tutta una serie di spunti dal punto di vista strategico che si possono ottenere anticipando una breve chiamata prima dell'invio dell'offerta al quale il cliente sicuramente risponderà perché questa offerta la sta ancora aspettando l'email accompagnatoria dell'offerta deve essere chiara bella in linea con tutto quello che abbiamo visto finora se ci sono promozioni si usano solo se ci sono i presupposti è inutile fare una promozione con scadenza sette giorni se il cliente acquisterà fra quattro mesi non ha assolutamente senso quindi le promozioni vanno utilizzate se con il cliente sono stati definiti tempi di acquisto che sono compatibili con la promozione stessa anche qui puntualità una email ordinata pulita vi ricordo che abbiamo già iniziato ad interagire con il cliente in più occasioni il cliente ha chiaro chi siete ha chiaro il vostro modo di operare il giorno che anche non dovesse acquistare subito ricerca una vostra informazione la troverà troverà coerenza si ricorderà di voi con un pensiero positivo e in questo caso se ho proposto una promozione devo evidenziare la scadenza della promozione il pulsante il contatto di miura ma soprattutto ricordo deve essere tangibile il motivo della promozione in questo caso la promozione potrebbe essere legata al fatto che un fornitore dei vetri ha riservato a noi che ci occupiamo appunto di vendere questo tipo di strutture ci ha riversato una promozione che noi possiamo in qualche modo girare insomma non sta a me definire in maniera strategica o non è questa l'occasione per farlo perché dare una promozione però la promozione deve essere perentoria sette giorni sono sette giorni siano procediamo nel processo siamo alla fase di follow up la fase di follow up è la fase più delicata di questo processo perché la cosa importantissima è che se vendete innovazione il cliente la deve prima comprendere se il cliente non è pronto a comprare insistendo otterrete un no per questo consiglio fortemente di dividere l'azione di follow up in due fasi la prima fase dove mandiamo l'ultima email di follow up dove l'email ancora una volta deve permetterci di interagire con il cliente con un risponso deve essere coerente con la qualità finora dimostrata e vi garantisco che un processo gestito come vi ho elencato o vi ho mostrato finora il cliente acquista email di follow up vi darà un feedback volete vedere la mail di follow up molto semplice evidenzio la scadenza in promozione metto la condizione ancora una volta tramite il pulsante inserito di essere contattati o comunque tramite dei pulsanti interattivi metto in condizione il cliente di esprimere un proprio follow up senza infestidirlo ecco che dopo questo tipo di follow up posso pensare ad un recall se il cliente nel frattempo non mi ha dato dei feedback se il cliente naturalmente lo richiede neanche dirlo sono necessarie veramente molte meno attività di recall e soprattutto molta meno esperienza commerciale qualora andiate ad inserire all'interno della vostra azienda un processo commerciale sul potenziale di clienti con questo livello di qualità siamo finalmente arrivati all'ordine il cosiddetto meritato trionfo il cliente ricordatevi che ha acquistato qualcosa che non vede ancora installato pertanto ha acquistato soprattutto l'ordine la puntualità che avete dimostrato ha acquistato efficienza vi ha qualificati come partner e non fornitori questo vi permetterà di accedere a vendite meno incentrate sullo sconto proprio perché siete considerati dei partner clienti probabilmente molto più puntuali nei pagamenti perché hanno apprezzato il vostro modo di operare clienti in grado di riconoscere la qualità dell'operato che voi andrete sostanzialmente a mettere all'opera quando andrete a fare l'installazione in termini di effort qua c'è una bellissima sorpresa se vi ricordate queste erano le conversioni che avevamo nell'ipotesi di prima ci sarà sostanzialmente una chiamata di analisi che inizierà a filtrare meglio chi veramente è interessato e soprattutto se merita un sopralluogo o meno quindi potremo pensare di andare a ridurre sopralluoghi sviluppo offerte dall'invio delle offerte e otterrete un incremento degli ordini ricordiamoci che quelle 20 figure che avrebbero comprato o che hanno comprato nel caso di prima rimangono se ne aggiungono qualche una che invece magari non abbiamo trattato così bene o con così puntualità perché era una ricerca dell'eccellenza che invece in questo caso siete stati in grado di sostanzialmente dimostrare coloro che si sono dimostrati poco affidabili sono stati scremati naturalmente sia dalla chiamata di analisi sia da un processo che non li ha rincorsi quindi non abbiamo fatto la cosiddetta vendita che io chiamo istorsiva ma una vendita che deriva da puntualità e da un processo ben gestito e questo si traduce se andate a ricalcolare da un 16 ore per ordine a poco più di 9 ore necessarie per l'ordine in termini di saturazione il back office o la parte commerciale che veniva saturata per 4 ore e mezzo si satura per poco più di 3 ore le 12 ore del tecnico diventano 6 ore ma non ho ridotto i tempi di sopralluogo non ho ridotto i tempi di sviluppo dell'offerta non ho ridotto i tempi di follow up che invece andrebbero ridotti perché qui le attività di follow up sono necessariamente meno non ho ridotto i tempi di chiamata relativamente alla chiamata d'accoglienza che invece vanno a ridursi già solo mantenendo gli stessi parametri riesco ad ottenere un altissimo livello di efficienza nel processo e una migliore conversione volete capire quanto questo processo può diventare ancora più efficiente con uno strumento evoluto beh allora naturalmente io vi invito a partecipare ai webinar che trovate su tuepi.com slash webinar siamo una storia di consulenza che vi mette a disposizione questa competenza in questo caso gratuitamente con il webinar o affiancandovi il giusto strumento che appunto è tuepi per il processo commerciale ma per anche tutti gli altri processi aziendali qualunque sia il settore e la vostra dimensione di impresa sperando appunto di avervi in qualche modo dato degli spunti importanti per andare avanti con il vostro operato ci rivediamo presto nei prossimi webinar grazie a tutti